Anno speciale per Elisa Bozzo, sincronette 27enne, bronzo agli europei di Budapest 2016 e subito dopo Olimpica a Rio. Terminata la fase dei concitati festeggiamenti, Meteora a disposizione la sua arte per invogliare nelle piscine le neofite di questo sport, che sotto i riflettori dei giochi olimpici vive una rivalutazione consistente. Ma è stato un anno bellissimo, con questa qualifica olimpica inaspettata, un quinto posto all'Olimpiadi bellissimo, europei benissimo, quindi è stato un anno veramente il più bello di tutta la mia carriera. Contagiati da questo effetto domino, responsabili e distruttrice sognano a livello di società di emulare il CT nazionale Patrizia Giallombardo. L'incremento è buono, probabilmente dovuto alle Olimpiadi appena finite e sicuramente questo ha dato un grosso impulso. Sta andando molto bene, infatti sono arrivate tante bambine piccole e siamo molto contenti di questo. Ma da ex atleta posso dire che c'è stato un netto miglioramento, lo riscontro proprio a pelle, anche adesso che ho iniziato da poco ad allenare e le bambine mi sembrano già a buon punto. Questa giornata per portare altre bambine, appunto perché è uno sport molto complesso e molto bello e dopo le Olimpiadi vogliamo ancora pubblicizzarla ancora di più. Speriamo che vengano altre bimbe qua da noi a fare nuoto sincronizzato. La mia presenza qua è per cercare di invogliare qualche bambina nuova, venire a nuotare. A me è sempre piaciuto, oltre che invogliare, passare alle bambine più piccole tutta la mia passione, la voglia di lavorare, perché è uno sport in cui comunque la voglia di lavorare e di sacrificio è molto importante e ce ne vuole molto.